Professor Franco Foresta Martin, lei in occasione dell'apertura della sezione preistoria e protostoria del MAN è qui all'interno del Museo archeologico come studioso di Ossidiana. Cosa è l'Ossidiana e che cosa ha rappresentato l'Ossidiana nel corso dei millenni? L'Ossidiana è una pietra di natura vulcanica che è stata ampiamente usata nel corso della preistoria a partire dal Neolitico, quindi circa 8.000 anni fa, per realizzare degli strumenti da taglio. È una pietra che si scheggia facilmente, cioè a partire da alcuni blocchi di questa pietra vulcanica si possono trarre delle lamelle o delle punte di lancia e di freccia che venivano appunto utilizzate dagli uomini preistorici per i bisogni primari. Prima ancora che fosse scoperto il metallo e che quindi si potesse sviluppare l'industria del ferro, del bronzo, del rame eccetera. Nel Mediterraneo centrale quali sono i giacimenti di Ossidiana? Nel Mediterraneo centrale esistono soltanto quattro giacimenti che furono sfruttati durante l'epoca preistorica e sono ubicati in Sardegna nel Monte Arci, a Palmarola nelle isole Pontine, a Lipari nelle isole Olie e a Pantelleria nel canale di Sicilia. La cosa più importante è che questi quattro giacimenti hanno un'impronta geochimica particolare, questo vuol dire che la loro composizione differisce in modo tale che se uno trova una scheggia di Ossidiana come quelle mostrate in questo museo si può esattamente attribuire a uno di questi quattro giacimenti. Professore noi qui in Campania non abbiamo giacimenti di Ossidiana, come sono arrivati questi reperti nei villaggi preistorici della nostra regione? Il secondo motivo per cui l'Ossidiana è importante è perché permette di ricostruire quali fossero le rotte che venivano adoperate nel corso della preistoria per trasferire oggetti, mercanzie, l'Ossidiana senz'altro, ma assieme ai carichi di Ossidiana viaggiavano sicuramente alimenti, ceramiche e tanti altri materiali. Quindi c'era un commercio che può essere ricostruito e rivelato grazie alla presenza di Ossidiana in luoghi come per esempio l'Appennino centrale che è illustrato in una vetrina di questo museo, l'Irpinia, dove non c'era localmente Ossidiana nativa, non c'erano giacimenti di Ossidiana e tuttavia sono stati trovati in quel luogo numerosi frammenti di Ossidiana, scoprendo che venivano importati da Palmarola e da Lipari. Dunque questo vuol dire che si navigava dalla Sicilia verso il continente, sia pure con le fragili imbarcazioni dell'epoca e poi una volta arrivati sulla costa tirrenica c'erano delle vie di terra, forse fluviali, che potevano arrivare ai villaggi dell'Appennino centrale.